Ma non è così che funziona. Paul, che succede qui? Signora Harrison, vorrei assistere alla riunione di oggi. E come mai? I dati cambiano molto velocemente, la capsula cambia, la massa, le zone di lancio, cambia tutto, ogni giorno. Io faccio il mio lavoro, voi assistete alle riunioni, io ricomincio da capo. A lancio mancano poche settimane, non abbiamo ancora i calcoli esatti. E perché non può assistere? Perché non ha l'autorizzazione, Al. Per poter fare il mio lavoro in modo efficiente devo avere tutti i dati e tutte le informazioni non appena disponibili. Devo essere lì e sentire insieme a voi. Le riunioni non sono aperte ai civili, richiedono la massima autorizzazione. Io sono la persona migliore per presentare i miei calcoli. Rintendi mollare, però? No, non mollerò. E poi hai una donna, il protocollo non ne prevede la presenza. Ok, questo l'ho capito, Paul. Ma all'interno di queste mura chi è che fa le regole? Lei, signore, è lei il capo. Deve solo comportarsi come tale, signore. Però in silenzio. Grazie. Buongiorno. Signori. Buongiorno. Lei è Catherine Gobble, lavora su traiettorie e finestre di lancio. Il suo lavoro è pertinente alle procedure odierne. Vieni. Si può calcolare il punto di soglia? Sì, in teoria, signore. Dobbiamo essere oltre la teoria a questo punto. Riusciremo a calcolare il punto di soglia con queste informazioni. E quando accadrà, esattamente? Catherine, vuoi provarci? Ok. Ok. Oh, ok. Ok.